Continuano gli sbarchi sulle nostre coste e ben presto diverse decine di profughi saranno presenti in Brianza? Sì, ne portano pare un'altra cinquantina su Monza, li alloggeranno al residence di Carnate. Il problema è che non sono solo gli sbarchi, è che la nostra Marina li va a prendere. Li va a prendere perché il nuovo Ministro degli Interni dà questa direttiva, il signor Alfano che era colui che era il baluardo della sicurezza e delle antipolitiche di sinistra, invece sul tema degli immigrati si sta comportando dei peggiori rappresentanti della sinistra su queste tematiche. Vanno a prendere tutti gli scappati dai paesi nordafricani in giro per il Mediterraneo, li portano qua sul nostro territorio e poi ovviamente gli paghiamo gli alloggi e in alberghi anche a 4 o 5 stelle. Questo è assolutamente intollerabile, una cosa scandalosa, noi chiediamo che si ricominci a fare i respingimenti come faceva il Ministro Maroni. La Lega dice che Alfano non è adatto al suo ruolo. Ha detto che era lì a vigilare che non sarebbero aumentate le tasse, hanno aumentato tutte le tasse possibili, c'è di nuovo la tassa sulla casa, sul tema della sicurezza è un disastro, abbiamo fatto 4 svuota carceri, abbiamo mandato a casa persino gli arresti domiciliari pedofili, che cosa ha combinato Alfano? Mi risulta un encefalogramma più piatto che si possa.